Il primo servo del Signore Il primo servo del Signore Senta, immagino che io non possa chiedere qualcosa dell'infanzia? No Un accenno alla mamma? No Cominciamo Uno ha chiesto al dottore se è credente? E lo è No, non lo sono Male E che lavoro fa? Faccio l'attore Si sente meglio? No, te l'ho detto! Ha risultato bene! Un miliardo di persone vi sta aspettando Un miliardo di persone vi sta aspettando